Confartigenato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 28 06 98. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee, telefono 079 27 1280. Ancora una volta siamo costretti a intervenire per denunciare l'insostenibile condizione delle strutture Covid e non Covid dell'Audi Sassari. L'appello arriva dal segretario territoriale della CGL, Funzione Pubblica Paolo De Tori, che nel riepilogare la situazione della sanità nell'isola, chiede all'assessore regionale quale sia il ruolo del Materolbia, che sarebbe dovuto diventare il riferimento del bacino d'utenza galurese. Perché, nonostante il San Francesco di Nuoro sia stato classificato tra i poli Covid, debba smistare i pazienti verso Sassari, sottolineando il ritardo in attivazione dei sei posti letto intensivi di Alghero e dei quattro subintensivi di Ozzieri. Anche dall'Oristanese, area di pertinenza di Santissima Trinità di Cagliari, arrivano ricoveri all'Audi Sassari, in affanno già da alcuni giorni. Una condizione che ha portato all'interruzione dei congiri del personale sanitario, che non ha avuto tregua, garantendo un'assistenza su grandi numeri, senza soluzione di continuità. Nemmeno nella fase di remissione Covid. Oggi si ritrovano nella condizione di fornire cure intensive frammentate su più strutture, facendo peripezie tra un padiglione e l'altro, con trasferimenti di pazienti intubati. Insomma, dichiara ancora De Tori, che abbiamo intervistato, perché siamo arrivati alla fase più calda dell'emergenza pandemia, con l'acqua alla gola, nonostante le rassicurazioni dell'assessore Nieddu. Nel Sassarese i posti letto di basse e di media intensità sono esauriti. La settimana prossima probabilmente aprirà il Policlinico Sassarese. Ora è necessario che la Giunta regionale e l'azienda ospedaliera universitaria di Sassari facciano quello che ancora non hanno fatto, cioè programmare degli interventi veloci, degli interventi che individuino locali idonei all'apertura di nuovi posti letto Covid e soprattutto rivedano al pronto soccorso e dal pronto soccorso verso tutti i reparti e i servizi diagnostici i percorsi, le divisioni e le separazioni. È necessario uno sforzo, uno sforzo difficile perché l'azienda ospedaliera universitaria muore di media con continui cambi di commissari straordinari. Anche da questo punto di vista sarebbe stato necessario dare una maggiore stabilità. Arrestato ieri mattina dalla Polizia Locale di Sassari, un 45enne è noto alle forze dell'ordine con precedenti dispaccio, soprattutto tra i più giovani. Gli agenti borghese del comando di via Carlo Felice hanno assistito alla guida spiricolata di un individuo che a bordo di un'autovettura guidava zigzag per le vie del centro storico cittadino, imboccando perfino alcune vie contro mano. Risalite al proprietario del mezzo con l'identificazione della targa, gli agenti hanno scoperto che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida e che il mezzo non era neppure assicurato. Bloccato da una pattuglia in via Saffi e visti i precedenti dell'individuo, si è proceduto ad una prima perquisizione, trovandolo in possesso di alcune dosi di marijuana, in seguito ad un controllo più accurato nella sua abitazione grazie anche al fiuto dell'unità cinofila Torre, è stato rinvenuto un chilo di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dall'autorità giudiziaria. Sequestrato dalla guardia costiera di Porto Torre su un chilo di datteri di mare in un noto locale di Sassari, in seguito ad un'ispezione, il proprietario è stato segnalato alla Procura della Repubblica. L'operazione è stata portata a termine nella serata di ieri in seguito alle attività di controllo svolte dai militari turritani in vari ristoranti del capoluogo sassarese. I pregiati molluschi bivalvi, rinvenuti all'interno di una cella freezer del locale, sono stati immediatamente posti sotto sequestro penale e il titolare del ristorante è denunciato per il reato di commercializzazione di specie ittiche delle quali è vietata la cattura. La pesca del dattero di mare, vietata in Italia dal 1998, è molto invasiva, in quanto per l'estrazione di piccole quantità di questo mollusco è necessario distruggere ampi tratti di fondale roccioso con l'utilizzo di martelli e pinze, compromettendo irriparabilmente l'habitat marino. Generalmente il mollusco vive all'interno di rocce calcare, corrodendole con secrezioni acide e la sua crescita è estremamente lenta, tanto da impiegare tra i 15 e i 35 anni per raggiungere soli 5 centimetri. Per questo motivo il personale della Guardia Costiera proseguirà le indagini per risalire i fornitori dei datteri, la cui cattura crea un serio danno all'ecosistema marino. Il comandante della Capitaniria Turritana, Capitano di Fregata Gianluco Liveti, ha evidenziato l'importanza dell'attività svolta assicurando che l'attenzione resterà alta per il contrasto di reati che non solo portano elevati profitti, il dattero di male viene venduto anche a 50 euro al chilo, ma comportano elevatissimi danni all'habitat marino. È online il bando per il bonus regionale per i matrimoni e unioni civili nel sito del Comune di Sassari, assegnato un finanziamento di quasi 200 mila euro. Il contributo massimo previsto per ogni cerimonia è di 4 mila euro. Sassari, qualità di ente capofila dell'ambito PLAS, si occuperà dell'intera provincia e gestirà l'iter procedurale fino all'assegnazione del contributo. Si tratta di un programma di sostegno alle coppie sarde che si uniscono in matrimonio in unione civile, celebrati o da celebrare tra il 23 luglio e il 31 dicembre di quest'anno. Le domande che potranno essere presentate fino al 15 novembre sono reperibili con tutte le informazioni sul sito del Comune di Sassari. Le coppie potranno accedere al contributo fino al termine dei fondi disponibili, in base alla somma degli isei dei futuri coniugi. Un trionfo per la Carmen andata in scena al Teatro Comunale di Sassari, applaudito per cinque minuti da un pubblico entusiasta, ma ridotto a soli 200 spettatori a causa delle restrizioni per il Covid. Nel secondo appuntamento per la stagione lirica dell'ente a concerti, Maria Lisa De Carols, il capolavoro di Bizet. La tragedia d'amore è ridotta in un atto unico entusiasmato per gli 80 minuti nei quali è stata condensata la struttura drammaturgica. Il racconto teatrale si concentra sul tormentato rapporto tra i due personaggi principali, una sensuale e intrigante Carmen e il suo amante Don José, interpretati dal mezzo soprano Veronica Simeoni e dal tenore Roberto Ronica, una coppia sulla scena e nella vita, che ha coinvolto il pubblico in sala, lasciando col fiato sospeso ad ogni colpo di scena, ma soprattutto nel finale, quando lo spirito libero della donna viene prima violato e poi ucciso dalla spada dell'uomo respinto. Lo spettacolo riprende un successo mondiale del 1981 del regista Peter Brook, messo in scena a Parigi e reinventato da Gianni Marras, che ha firmato l'allestimento sassarese, una delle opere più popolari che anche in periodo di pandemia non ha mancato di emozionare con le sue aree più famose, dall'Amour et Noiseau Rebelle fino alla marcia del Torre Adorti e Scamiglio, interpretata dal baritono Marco Bussi. Nelle originali scene disegnate da Davide Amadei, l'orchestra diretta da Jacopo Brusa viene sollevata, lasciando spazio all'arena dove si consuma il dramma. Resta nella storia anche Michela, la rivale di Carmen, interpretata dal soprano Federica Vitali. Completano il cast i bravissimi attori Emanuele Floris, nostro collaboratore nel ruolo di Zuniga, e Maurizio Giordo nella doppia parte di Lilla Spastias e Garcia, Massimo Carlotto ai costumi, Daniele Palumbo alle coreografie e Tony Grandi al disegno Luci. Si replica questa sera, sempre al Teatro Comunale, alle 20.45 e domenica alle 17. Un modo nuovo di interpretare il teatro. Si spera temporaneo, che ha incuriosito anche i curatori del programma Rai prima della prima. Una troupe della storica trasmissione ha infatti visitato il teatro di Sassari durante le prove, intervistando i protagonisti e dedicando una puntata all'allestimento sassarese che verrà trasmesso prossimamente. Generali, partner di vita. Weekend ricco di avvenimenti sportivi per la città di Sassari. Si parte dal pomeriggio con la serie D di calcio. Il latte dolce sarà impegnato al Basilio Cano di Senuri contro l'insieme Formia. Partita difficile, nove punti e punteggio pieno per i laziali, mentre per i bianco celesti, due punti in due gare. Ultimatum per mister Udassi e i suoi ragazzi, che già oggi dovranno svoltare pagina. Domani, alle 12, lancio un match la serie A di basket, con la Dinamo impegnata al Palasserra di Migni contro la Furtido Bologna dell'ex coach Meo Sacchetti. I bianco-blu arrivano da una sconfitta con Trieste e da due vittorie importanti contro Roma e Pesaro. Domani l'obiettivo è vincere per restare aggrappati a primi posti della classifica in attesa della prima del Basketball Champions League mercoledì in casa contro i turchi del Calatasaray. Alle 15 di nuovo con la serie D di calcio, la Torres torna in campo dopo la sosta di domenica scorsa contro la Nocerina a causa della positività di un dirigente rosso-blu al Covid-19. Il club sassarese non è partito benissimo, due sconfitte e zero punti in classifica. Domani al Vanissan arriva il Monterosi, squadra blasonata, ma mister Gardini è chiamato a vincere. Il weekend sportivo si conclude con la palla a mano al Palace Santoru, la Raymond Sassari Handball, ospita la San Giorgio Molteno. Grande entusiasmo? La vittoria permetterebbe ai sassaresi di blindare il secondo posto in classifica e ipotecare il primo posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.